Scusate per il disturbo che vi arrecherò sabato e domenica. Le parole di Papa Francesco, pronunciate in una telefonata con il Vescovo di Astimo, signor Prastaro, danno la cifra dell'umiltà e della discrezione del Santo Padre, che arriverà ad Asti il 19 novembre e ci rimarrà fino al 20. Quella che doveva essere inizialmente una visita privata, Bergoglio viene sabato a Portacomaro a festeggiare il compleanno della cugina Carla Rabezzana, si è trasformato in un evento pubblico. Solo la domenica però, con il percorso sulla Papa Mobile, l'ha messo nella cattedrale di Asti. Un avvenimento tanto atteso dalla comunità che sperava da tempo di poter vivere qui tra le sue mate colline il Papa Francesco. Un mese di lavoro matto e disperato, per parafrasare un altro astigiano famoso, l'Alfieri, che ha messo alla prova l'amministrazione della città tutta, così come hanno precisato oggi in una conferenza stampa ad Asti il sindaco, il questore e il comandante della Polizia Municipale. Ci aspettiamo almeno 25.000 persone, ha sottolineato il prefetto Claudio Ventrice. La richiesta è altissima anche da fuori provincia, ma purtroppo non ci sarà spazio per tutti. In chiesa ci sarà posto per circa 1.200 persone, almeno 3.000 in piazza, le altre 20.000 le ipotizzano sul percorso che il Papa farà per raggiungere la cattedrale. L'itinerario prevede la partenza da Piazza Catena per proseguire lungo Via Gioberti, Piazza Lugano, Via Le Partigiani, Piazza Torino, Corso Alfieri, Piazza Cairoli e Via Caracciolo. Il consiglio per chi non ha pass o arriva da fuori è di trovare posto sul tragitto. Per tutti l'appello è rispettare gli orari. Chi ha pass e posto dovrà presentarsi entro le 9.45. Dopo quell'orario i varchi di accesso verranno chiusi. E sulle conseguenti criticità per la mobilità, soprattutto per i residenti, si sottolinea la necessità di rispettare le prescrizioni adottate dal Comune già dalla mezzanotte di sabato e l'invito a collaborare con le forze di polizia e con i tanti volontari. Tutte le informazioni sul percorso, sugli accessi alla piazza, sui biglietti e sulla